Dal 31 gennaio del 2017 è stata sospesa l'attività trapiantologica per i bambini malati di cuore che hanno bisogno di un trapianto qui al Monaldi, unico centro di riferimento regionale della Campania. E da questa mattina i genitori dei bambini trapiantati hanno deciso di protestare una protesta ad oltranza e sono saliti sul tetto della direzione sanitaria del Monaldi e chiamano De Luca perché risolva finalmente questa situazione. Da primo centro in Italia nel 2013 a ultimo centro nel 2017 al Monaldi non si riesce in un anno a smaltire nemmeno un terzo della lista di attesa dei trapianti e ora la sospensione totale delle attività e il motivo per cui si è arrivati a questo punto ha dell'assurdo. Cioè sembra una barzelletta, danno come motivazione ufficiale della sospensione dell'attività trapiantologica il fatto che non ci sono attualmente le condizioni per collaborare tra la cardiochirurgia pediatrica e il centro trapianti. L'assistenza che loro dicono di poterci garantire ai ragazzi già trapiantati, come pensano di garantirla se non possono collaborare i due reparti? Chiunque sappia che cos'è la vita di un trapiantato si rende conto che questa è una bagianata, ci prendono in giro. Fu messa in lista d'attesa nel 2013 da loro, a secondo piano la cardiologia e mi spiegaranno in mente gli stessi che l'hanno messa e l'hanno tolta. L'hanno tolta nel 2015, poi hanno sospeso le attività trapiantologiche e questo giustifica perché i miei figli altri sono stati tolti dalla lista d'attesa. Quando a Bergamo l'hanno rimessa in lista prioritaria urgente, anzi hanno detto che questi sono pure casi da denuncia. Se questa protesta che è arrivata appunto al limite, perché siete molto stanchi, non dovesse sortire l'esito che vi aspettate, che cosa accade? Rimaniamo qua, rimaniamo qua a dormire e a mangiare per un paio di giorni e fra due giorni smetteremo anche di mangiare e poi smetteremo di bere. Quello che loro non capiscono è che noi non stiamo facendo una gare politica, noi stiamo facendo una battaglia per la sopravvivenza dei nostri figli. E quindi non c'è nessuna possibilità che rinunciamo.